Vai Aspè ma noi dove siamo Ok siamo pronti Almeno non ci disturba nessuno Forse Vabbè non dovrebbe entrare nessuno Spero Ecco l'ecco l'emita Come è che sto a volerci uso? Ne hanno kickato il Ranger Merda Vabbè uno a mit C'è Kino Ma come non lo prendo ucciso meno male che avevo il cecco si è bloccato serve aiuto due? aspetta andiamo un po' adesso andiamo da tunnel scende no picchini no per tutti questo è sparato attraverso i muri uno tunnel vai mid ah ma eri tu che facevi casino non lo so non l'ho preso ah quasi ma che madre chissà ma che va di in b buon lavoro i miei amici sono stati eliminati grande madre mi riusciti di piazzarla da bomba ma di minuto ma non so a testi ottimo lavoro no 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 oh aiuto aiuto tutti i nemici sono stati eliminati son frao lui nel rito localizzato infudiscili in piazzana da bomba qualcuno a tunnel nooo la malta madre è che si pebisse niente non c'è niente non siamo noi non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente eh vabbè eh vada no vada a shottare qualcuno non lo so ne credo ce n'era solo uno vado a controllare oh uno a server, uno a server mi serva aiuto oh merda merda che casino non voleva morire è dure a morire oh merda che vedi c'è il cazzo da me vedi c'è il cazzo da me vai vai no nooo m'ho ucciso 2a dietro 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 uno spawn niente spawn ragazzi sono in servia dove stava l'ultimo cazzo in servia stava là c'è dove si si di fronte uno che è di fronte lontano l'altro vicino all'esterno e io non sono entrato poco tempo non credo ce la fai vabbè ormai è civile pare ammazzati non c'è nessuno guarda si era nascosto c'è rumene che si nascondono c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno c'è nessuno il miglio ha c'è nessuno A destra, a destra, fermi Ah è morto Ma noi c'ha poca vite Beeeella Oddio che guerra Che copre ha? Merda Nessuno lo deve Nessuno Uno che è defusa, uno che è defusa Dai, 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 sì Obiettivo localizzato, obiettivo distrutto Adesso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no non ce la fai arrivare in b ce la puoi fare ti sento piano devi clicciare questo no se vabbè ciao spacco bottiglia che ammazzo famiglia andatena corretela no non uccidetelo non uscirete saluto l'obiettivo è stato distrutto l'obiettivo è stato distrutto che 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 ottimo uno mid arriva eccolo ora non corre più ecco 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 ti pia quando ogni franco